Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Brawl Stars e finalmente l'update è uscito! Questa è la mia personalissima reaction all'update, andiamo subito a vedere cosa ci aspetta ragazzi. Ho appena appena aggiornato, non ho spoilerato nulla, prima apertura in assoluto, in streaming pure. Vediamo un po', doppio caricamento. Ok, allora, 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 fermi tutti, mettiamo subito a non disturbare. Abbiamo un nuovo bellissimo sfondo, che è quello del Ranger Ranch, il tema di questo pass. Che sta per arrivare? Manca almeno di una settimana. Io puntualmente ho delle missioni che come cavolo farò a fare, non lo so. Abbiamo subito la missione vince. Abbiamo subito la missioncina, bella. Ok, overdrive, figo. Molto, molto faigo. Nel negozio cosa c'è? Guarda! Guardalo qui, premio mitico! E ce lo devo pigliare, vai! Subito così, vai, vai! Let's go! Beh, oddio, pensavo meglio. No! Bull deve essere all'undici! Se Bull non è all'undici non posso sbloccare... Ma va, che porcheria! Ma no! Ma male, male! Allora, facciamo queste offerte qua, le vedo poi dopo con calma. Io, nel frattempo, vi ricordo di inserire il codice ferre, mi piace, iscrizione, come sempre. Allora, io adesso, adesso, ragazzi, mi spiegate sta cosa. Non gioco la sfida. Vado in Brawl Ball. Ok, a caso. E metto la skin di RT Cremisi. Tutti che continuano di minciate ferre, metti la skin di RT Cremisi. Io vi giuro, non so che cosa faccia. Immagino qualche bug, qualche porcheria. Vediamo, io vi giuro, non so niente. Vediamo un po'. Cremisi, quindi lo selezioniamo così. Ok. E start un game. Non farlo in game. Non andare in partita. Non farlo in game. Perché cosa succede? Non è legit! Ma cosa stai dicendo? Mi devo preoccupare? No! Ma in che senso? Cioè, anche se non è trasformato, fa da... Ma dimmi te! E se uso la super, che succede? Ah, ma la super è quasi controproducente, allora. Ma la super è controproducente. Ma poi perché c'ho sto gadget? Ma che mi stai dicendo? Ah no, che il gadget è giusto, scusate. Ma che cosa... Ma cosa mi stai dicendo? Cioè, ma guarda, fa pure da... Ma che roba! 3.300! Ma che roba super broken! Ma che... Ma che roba è? Ma è una porcheria! Ma è una porcheria, ragazzi! Ok, va bene. Bella per RT. Allora, io penso che farò come l'altra volta, raga. Ve lo dico. Perché adesso io so già che la chat mi comincia a... Eccala. Mi cominciano a scrivere. Eh no, ma c'è anche quel bug lì da provare. C'è anche l'altra... Ragazzi, faccio un video a parte sui bug a sto punto. Però, fatemi finire di fare sta reaction update. E soprattutto, fatemi sbloccare la hyper di Shelly. Assolutamente. Quindi iniziamo. Ok, mi dà la hyper di Colt in rovina. Mmm. Ok. Quindi ci sono solo brawler con delle hyper. Ok. E siamo tutti brawler diversi, tra l'altro. Ok. Allora. Ovviamente il gadget che c'ho è quello del danno, puntualmente. Qua la dottura ci poteva anche stare, ma vabbè. C'è tra l'altro... Ah, si può usare già perle così facendo. Ah, ma che figata! Ma guarda che roba! Mi ha fatto malissimo! Poi i brawler, tutte le statistiche boostate, adesso... Sono il primo a essere andato giù. Sono un pollo. Ma guarda, mi hanno distrutto! Ma che è sta roba? Mi hanno trapassato come... Come i tempi verbali, ragazzi. Trapassato remoto. Vabbè, onesto però, eh. Scusa, eh. E va tanto in combo il gadget, ecco sta robetta. Il gadget dei colpi, ragazzi, va tanto in combo con l'hyper. Perché io sparo più colpi, mi tengo l'hyper caricata per più tempo. Guarda che clean! Bellino! Ma sono dei bot questi? Domanda, domanda delle domande. Vai! Usiamo sta hyper incredibles. Via! Pulito! Ah, sì, sono bot. Ok. Mi sentivo fortissimo, ragazzi. Pensa che sono il primo a essere andato giù, ma dettagli. È vero, dall'altra parte c'erano gli avversari senza... Niente, ragazzi! Non c'erano gli avversari senza nulla! Cioè, è proprio uno scontro... Ok, sono morto di nuovo io per primo. Però è uno scontro proprio... L'opposto di a darmi dei pari, ragazzi. Notare come perdo contro un barley. C'è quel brawler a zero coppia e io praticamente, ragazzi, in un attimo la sfida me la porto a casa. Easy. Uh, prima parita con Pearl! Così la possiamo provare. Io l'ho già provato, ovviamente. Però la possiamo provare again. E siamo di nuovo contro della gente... Paperesca. O c'è il verbo paperesco, ragazzi. Molto bene. Ma fantastico. Ma fantastico. Ma che fu l'ultimo fatto? Ma tra l'altro c'è anche i gear. Lol. Ok. Va bene. Ah, ma tra l'altro avete visto? La ulti di Pearl non si può interrompere anche se viene stunnata. Cioè mi ha preso il Grom ma non mi ha interrotto la ulti. Ma che figata. Un po' troppo Piera, ragazza. Un po' troppo. Allora, ragazzi, subito aglio le partite. Ve le metterò poi come gameplay sottofondo in qualche altro video. E ci vediamo tra poco appena ho sbloccato la Hyper. Ok. Signori, ce l'abbiamo fatta? Eccola qua, finalmente. Abbiamo vinto le 25 battaglie. Quindi usciamo, vediamo cosa succede. Ok, eccolo. Overdrive di Shelly. Che brutto dire Overdrive. Lo tenderò a chiamare Hyper Charge. Va bene. Quindi adesso se vado su Shelly. Ok, eccola qua. Vediamo un po' com'è. Ok. Fighissimo. Quale può essere il best setup con l'overdrive? Ma penso che... Potremmo azzardare, visto che anche i competitivi ogni tanto si vede, a mettere cerotti. Così, proprio subdoli. La velocità ce la lasciamo. Il danno ce lo possiamo lasciare. La proviamo così, Shelly. Detto ciò, ci sono un po' di cose che mi avete segnalato mentre giocavo. La prima è che nei messaggi ho in teoria una ricompensa da riscattare. Che è questa qua. Che sono le emote che hanno animato. O così credo. Non che hanno animato, che hanno aggiunto. Hanno aggiunto le emote di Shelly Stellare, le emote di Bibi e le emote di Tara. Ma che figata, queste emote qua è tipo rarissima, ragazzi. Hanno anche animato le emoji della trombetta. Guarda che bella. E tanti altri, sicuramente. Poi mi hanno segnalato nelle notizie che in teoria c'è stato un ulteriore bilanciamento. Andiamo a vedere nella patch note che è stata rilasciata. Che è tipo lunghissima, oh mio Dio. Bisogna scendere un bel po', eh. Eccolo qua. Ci sono due bilanciamenti a sorpresa. I punti salute base di Edgar sono stati aumentati a 3.300 a 3.000. E un altro bilanciamento riguarda Mortis che dice. Lo scatto lungo ora si carica indipendentemente dallo stato delle munizioni. Ah, ok, ho capito. Fatemelo provare al volo, ma questo qua è un bel baffino, eh. Cioè, adesso giustamente lui si comincia a caricare perché sono full colpi. Ma se io dascio... Ah, guardalo. Si comincia a caricare. Prima si doveva ricaricare tutta la barra arancione. Poi si cominciava a caricare anche l'altra. Mamma mia, ma questo è un bel buff per Mortis, eh. Molto, molto interessanti questi bilanciamenti. E un'altra cosa che volevo vedere, ragazzi, sono le offerte, effettivamente. Perché con 9.600 io prendo l'overdrive, ok, con pin, spray e avatar. Ma io vorrei capire. Se io con Shelly volessi shoppare questi elementi, come faccio? Non posso shopparli. Di solo elementi cosmetici per Shelly? Eh, sì, ma in gemme. Me le devo gemmare. Invece così, tipo questa offerta qua, io posso usare l'oro per prendermeli. E non le gemme. Che figata, cioè, a me basta, basta far su 9.600 di oro e mi piglio tutto. Idem per Bull. Raga, Bull o Colt? Cosa, quale mi shoppo? Ok, dalla legge mi dicono Colt. Quindi mi servono giusto un po' di monetine di oro. Ma ce l'avrò un po' di oro da qualche parte. Su, via. Ok, qua c'è subito un po' di oro, appunto. Sac, bello. Sac, bello. Qua c'è un bel 2K. Sac. Già così ci dovremmo essere. Eeeh, 10.000. E allora, pigliamoci la st'offerta, ragazzi. Let's go. Vamos. Pigliamo Colt. Vai. 9.600 di oro. Si vola. E sbadabam, ragazzi. Colt con fuoco doppio. Il pin di Colt che diventa Super Saiyan. E lo spray, giusto? Sì. E l'avatar animato. Cioè, ma parliamo, parliamo un attimo dell'avatar animato. Ovviamente quello creator non si toglie mai, ragazzi. Ma che figata l'avatar animato. Fatemi subito personalizzare Colt, vi prego. Ma va che storia. Bellissimo. C'è anche lo spray, bellissimo. E l'avatar, ragazzi. Scusate, me lo devo mettere. Ma va che storia. Ma va che roba. Ma è bellissimo, mi piace un sacco. Abbiamo già due overdrive su sei, così, tra l'altro. Raga, il mio consiglio è ste offerte qua con loro di pigliarvele tutte. Cioè, questa roba qua. Perché questi qua sono oggetti cosmetici che, secondo me, sono gemmabili. Qua si possono prendere con loro. Quindi, sicuramente, prossimo obiettivo è portare Bulle al livello 11, ragazzi. Dopodiché, focus al massimo sul prendere l'offerta sua. Quanto dura ancora sta offerta? 16 giorni, a voglia. Insomma, io direi che con questa reaction al Brawl Talk siamo giunti al termine. In realtà c'è ancora tanto da dire, ma ci saranno altri video, ragazzi. Tipo tutto quello che riguarda i bug. Tranquilli, ci facciamo un video. Noi ci aggiorniamo presto. Un saluto a tutti e ciao belli.